Ripartiamo dal Nord-Est. E' questo il motto del convegno inaugurale di Punto d'Incontro 2013. Una manifestazione che vuole essere non solo un momento di condivisione e di opportunità formative, ma anche un'occasione per discutere di lavoro, di imprenditorialità e di opportunità di innovazione per il nostro territorio. Solo attraverso lo scambio e la cooperazione si possono trovare soluzioni adeguate per affrontare con concretezza il problema del lavoro e guardare al futuro con fiducia e intraprendenza. Presente all'incontro anche il sindaco di Pordenone Claudio Pedrotti. Il fronte su cui a mio avviso bisogna muoversi è verso la scuola introdurre degli aspetti di concretezza pratica che non so perché attraverso le ultime riforme abbiamo abbandonato. Voi sapete che la mia idea è di proporre delle borse studio che favoriscono soprattutto negli istituti tecnici la sperimentazione di cose che in giro per il mondo ormai sono acquisite dal punto di vista dell'utilizzo. Su questo fronte io sto cercando di capire come aprire proprio degli spazi per mettere insieme degli ambienti dove le persone giovani possano provare queste tecnologie. L'unico punto di partenza che io vedo sarà lento ma è se noi non aggrediamo e non ci riappropriamo di queste cose saremmo perdenti rispetto agli altri che invece già le cavalcano e da un po' di tempo. Grazie.